Il Medioevo è un contenitore immaginario nel quale mettiamo la fede in Dio, ma anche l'ateismo, la pace, ma anche la guerra, la cavalleria, ma anche la viltà e il tradimento, la vittoria, la gloria… Un grande regista, forse uno dei più grandi registi cinematografici di tutti i tempi, che è Ingmar Bergman, alla fine degli anni 50 ha fatto un capolavoro su cui si dovrebbe meditare, che dovrebbe essere ancora fatto vedere nelle scuole, che è il settimo sigillo. Il settimo sigillo è il racconto di un cavaliere che torna dalla crociata e ha uno scudiero e hanno delle vicissitudini e incontrano di tutto, i banditi, i giocolieri, i poeti, le streghe, la morte, gli angeli, i diavoli, c'è tutto l'ingrediente, ci sono tutti gli ingredienti del Medioevo che noi ci immaginiamo. Perché questo immaginario? E che cos'era in realtà il Medioevo? Il Medioevo vero non è mai esistito, è il frutto della nostra capacità di organizzare e di dislocare i sentimenti e i ricordi della storia. E allora in ultima analisi cosa cerchiamo nel Medioevo? Noi cerchiamo uno specchio per la realtà di oggi e un alibi per fuggire alla realtà di oggi nella misura in cui non ci piace e rifugiarsi in una realtà che ci sembra più a misura d'uomo, più bella, più vera. Evidentemente questo Medioevo non è mai esistito, ma esistiamo noi con le nostre passioni, con i nostri ricordi, con la nostra fantasia. E allora in ultima analisi però, qual è la ragione del nostro attaccamento al Medioevo? Perché ci stiamo attaccando così al Medioevo? Perché noi viviamo in un momento di crisi, in un momento di pericolo, in un momento di disorientamento. Non a caso nascono parole chiavi alle quali ci attacchiamo? Identità, tradizioni, radici. Ecco, le radici della nostra identità, le radici della nostra tradizione stanno profondamente nel Medioevo. Ma perché nel Medioevo? Perché non nell'età romana, che è stata così importante, o nell'età moderna, che è stata la culla della nostra realtà di uomini che vivono di scienza e di tecnologia. Perché c'è un fatto su cui dobbiamo riflettere, proprio noi occidentali, sul fatto che il Medioevo è una creazione genuina dell'Occidente, esclusiva dell'Occidente. Altrove il Medioevo non c'è, non perché altrove non ci sia stato quel millennio che noi chiamiamo Medioevo, dal 476 al 1492, secondo la divisione scolastica più comune di tutte le civiltà del mondo hanno passato quella fascia di tempo, ma per loro non è Medioevo. Perché il Medioevo che cos'è per noi? Non è un'espressione cronologica, è un'espressione culturale. Nel Medioevo noi abbiamo vissuto un tempo che più tardi è stato visto come sospeso fra la perfezione dell'antichità e la perfezione del tempo presente. Il Medioevo è tipico dell'Occidente, nessun altro mondo, nessun'altra cultura ha vissuto la coscienza di una società coesa, di una società compatta che in mille anni, nelle forme più varie, ha saputo sviluppare una cultura che ancora oggi noi seguiamo come modello oppure noi inseguiamo come un mistero da scoprire. Questa è la ragione per cui noi europei occidentali contemporanei, proprio perché non abbiamo più identità e ci sentiamo minacciati da vicini ostili che di identità credono di averne fin troppa, proprio per questo motivo noi abbiamo tutte le ragioni e tutti gli interessi di tornare a ispirarsi a questa fonte di arte, di cultura, di bellezza, di verità, di intensità che è proprio il periodo che noi conosciamo come appunto Medioevo.